cerchio marina attraverso attilio m voce della quiete punto vagliano chiocciola gmail punto com andrea torniamo al punto abbiamo detto che una volta che uno ha scoperto la struttura della propria mente può succedere che la mente perda di forza mentre invece se la mente si trasforma segue sempre la legge che abbiamo appena citato e questo significa che nel vostro quotidiano molte volte di fronte a fatti e ad eventi voi rinunciate a capire qual è la struttura della vostra mente ma quale può essere il modo per capire la struttura della vostra mente se per esempio guardate all'etichetta poco amabile una volta osservata l'etichetta cioè il giudizio che dà la mente avete capito veramente ciò che sta dietro questo giudizio no e quindi guardando le etichette cosa potete scoprire se la mente ha una semplice ed unica legge che la guida nella sua azione l'etichetta è proprio la manifestazione di questa legge nel senso che è un pensiero comunicato o comunque un pensiero che diventa parola è stupido è intelligente è carino è simpatico mi piace mi torna proprio sento che a questo punto si diventa sicuri che qualsiasi etichetta in sé qualcosa che riflette questa legge ed allora si devono guardare i giudizi certo distaccandosi ma adesso si tratta di fare un passo in più cioè guardare i giudizi come manifestazione di questa legge della mente quindi se uno diventa consapevole che un'etichetta esprime sempre la legge della mente deve osservare ogni etichetta dubitando non della parola ma dell'etichetta e quindi sapendo che quella etichetta gli nasconde qualcosa e chiedendosi poi di conseguenza che cosa essa gli nasconda continua grazie grazie